Il collezionismo come tutti noi lo conosciamo sta arrivando all'Azimut? L'arrivo di una nuova tecnologia dagli Stati Uniti distruggerà ogni certezza riguardante questa branca dei DCG? E ci sarà davvero da preoccuparsi in vista di un futuro prossimo dove pratiche simili saranno alla portata di tutti? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Compro un box del set base di Pokémon. No, non è vero, ma vorrei che mi registe il gioco. Mettiamo caso che settimane fa mi sono messo in testa di acquistare un box della tanto desiderata prima edizione, lingua inglese, trovando un'ottima occasione a 180.000 euro dopo una trattativa durata diversi giorni. Effettuo il pagamento ed attendo che il prodotto arrivi a casa per godermi uno dei pezzi da collezione più bramato in assoluto non solo nel mondo del collezionismo dei mostriciattoli tascabili, ma dell'intero universo dei DCG. Quindi, passati alcuni giorni, il postino suona alla porta e, come se fosse arrivato Babbo Natale in persona, apro Felice come una Pasqua non stando più nella pelle. Il box è arrivato in condizioni impeccabili e profuma di fabbrica. Profuma di nuovo. Ma dopo un breve periodo di esaltazione noto qualcosa che non va. Il colore della scatola non mi convince e, chiamando a raccolta altri appassionati, si arriva ad una conclusione amara. Probabilmente l'articolo risulta contraffatto. Perciò si procede con l'apertura e, ad ogni bisturata, che equivale ad una stillettata nel fianco, togliendo il cellofan e sollevando la linguetta superiore, scopro che dentro non ci sono le bellissime immagini di Charizard, Blastoise e Venusaur ad aspettarmi, ma delle bustine di G.I. Joe. Storia vera accaduta a Logan Paul, che in un suo video ha purtroppo per lui subito un furto per milioni di dollari, perché nel suo caso non era solamente un box di prima edizione, ma un case intero. Ok, Arconte, dove vuoi arrivare? Ora ve lo dico. Immaginate se al tempo fosse stato possibile visionare le carte dentro il case, scoprendo subito dopo che si trattasse di una truffa. La tecnologia allora non supportava tale ipotesi, non era neanche lontanamente concepibile riuscire a capire cosa fosse presente in un box. Ma, da un breve periodo a questa parte, sì. Sto parlando del servizio che sta mettendo paura a diversi collezionisti smuovendo pareri contrastanti al riguardo, e nel video odierno andremo a prendere in esame alcuni punti fondamentali da tenere in considerazione, soprattutto in alcuni ambiti, così da esplorare quanto più possibile questa nuova frontiera ignota che attende tutti gli appassionati dei giochi di carte collezionabili. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca colleziono da zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come potrà tale servizio giovare o meno al mondo dei trading car game. Andiamo a dargli un'occhiata. Il collezionismo è giunto al capolinea? Partiamo dal principio. La casa Industrial Inspection Plus Consulting fornisce da anni supporto ingegneristico all'avanguardia garantendo affidabilità ed efficienza attraverso sistemi di scansione. Praticamente vanno a visionare il materiale interno di un qualsiasi elemento decretandone la sicurezza a livello di struttura. Anche qui all'Aquila dopo il terremoto del 2009 per visionare il ferro all'interno di un pilastro si sono e si utilizzano ancora delle pratiche simili chiamate indagini pacometriche che garantiscono attraverso la scansione una costruzione il quanto più antisismica possibile che possa mantenere al sicuro la popolazione del posto. Non è la stessa cosa ma il concetto di base è il medesimo. Visionare ciò che non è possibile vedere al di fuori della struttura. È più simile ad una sorta di ecografia. Ecco mettiamola così. Ebbene un bel giorno i signori della Industrial si sono chiesti. Perché non estendiamo il servizio delle opere ingegneristiche anche al mondo dei giochi di carte collezionabili? In questo modo andremo a fornire il primo servizio al mondo di scansione del contenuto di un pacchetto o di un prodotto nello specifico. E qui sono iniziati i primi problemi. La domanda principale che i più si sono posti è stata la seguente. Questo servizio ammazzerà il collezionismo? Una sola risposta. No. O almeno così è come la pensa il sottoscritto. Al momento non c'è da preoccuparsi dati gli elevati costi di procedimento. Infatti si parla di 75 dollari per un numero variabile che va dal singolo a 5 booster pack, 70 dollari per un numero variabile che va dai 6 ai 10 e 65 dollari per un numero superiore ad 11 unità. Sia chiaro il costo è da intendersi a pacchetto unico quindi se invierete 10 booster il costo totale ammonterà a 700 dollari. È Arconte ma è un'esagerazione. Tutti questi soldi per un pacchetto sono davvero troppi. Dipende ovviamente dal pacchetto. Mettiamo caso che avete trovato un pack sempre del set base prima edizione di Pokémon e affibbiamogli un prezzo indicativo di 5.000 euro. 180 euro diviso 36 bustine. Per una cifra di questo tipo credo che una piccola assicurazione di 75 dollari su 5.000 sia più che consigliata. Poi sarà ovvio che più i costi dei pacchetti scenderanno meno questo servizio non sarà necessario ma bisognerà almeno al momento prendere questo servizio proprio per quello che è un'assicurazione sul contenuto interno. Ho capito Arconte ma se già si sa che carte ci sono dentro un pack dove sta il divertimento? Partendo dal presupposto che un booster di prima va lasciato sigillato se si vuole ad esempio fare contenuto sul proprio canale il conoscere già quali carte saranno presenti potrà effettivamente seccare annullando completamente la magia della sorpresa. Per questo a breve arriveranno anche delle analisi di certificazione ed autenticazione e qui vorrei porre l'accento. Questo è il servizio che ci voleva soprattutto se si viaggia a cifre elevate o si vuole investire il proprio tesoretto in qualche carta, articolo o box specifico. Infatti grazie a questo si potranno finalmente azzerare le truffe. Della serie? Ok compro il box che costa X ma prima di pagarti vorrei che tu lo mandassi all'Industrial per verificarne l'autenticità. A spese mie ovviamente così le informazioni verranno rivolte al diretto interessato. Se è tutto ok si passa allo scambio di denaro per il bene, altrimenti si prevederanno situazioni non molto piacevoli. E qui potranno entrare in campo anche eventuali figure professionali come avvocati o notai, questi ultimi soprattutto se ci troviamo su suolo italico. Infatti attraverso tali professionisti si potranno redigere non solo contratti da far firmare a ambo le parti per riuscire a trovare un accordo, ma anche registrare a livello istituzionale eventuali compravendite. Ok Arconte ma parlando del primo servizio, chi vieterà a qualcuno di mettere in vendita un box che contiene assicurata una manga di One Piece o una carta rara qualsiasi a cifre esorbitanti? Non si rischierà di devastare il mercato secondario? Il mercato secondario è secondario per un motivo. Tutte le carte, i box usciti fuori produzione e i prodotti speciali vengono messi in vendita qui e nessuno vi vieterà di effettuare una scansione a vostra volta per verificare la veridicità del contenuto o più semplicemente non comprare lasciando l'articolo alla merce del mercato stesso. Quindi questo nuovo servizio andrà a distruggere il collezionismo una volta per tutte? La risposta è no, non c'è motivo per il quale una semplice scansione demolirà un'intera branca dei DCG, anche perché nessuno vi impedirà di reperire articoli presso i negozi specializzati come Fantasia Store, Loop Games o 4X Trading ad esempio, ottenendo così la materia prima direttamente dal negozio. Poi ovviamente il discorso dovrà essere esteso anche in ottica futura, chi utilizzerà questa tecnica per trarne un profitto e chi no, e così via andando a tenere in considerazione ogni gradazione di nero che tende verso il bianco. Ma al momento tutto ciò di cui abbiamo parlato non rappresenta una minaccia vera e propria, ma bensì un servizio molto utile per dare una salvaguardia in più a scambi che coinvolgono diverse decine di migliaia o in alcuni casi centinaia e milioni di euro. Quindi dormite sonni tranquilli perché c'è da tenere a mente anche quest'altro fattore. Al momento il servizio erogato dalla Industrial è specifico per il mercato americano. Nessuno vi dirà di no se vorrete usufruirne dall'Italia o da qualsiasi altra parte dell'Europa, ma assicuratevi solamente che l'investimento ne valga la pena. A tutto il resto penseranno loro. In descrizione comunque vi lascerò le tre pagine principali di riferimento dove potrete visionare da voi ogni aspetto di questa nuova frontiera così da trarre delle conclusioni personali su questo aspetto che la casa ingegneristica americana ha messo a disposizione per ogni appassionato dei giochi di carte collezionabili. E voi cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.